Musica Io ho impiantato questo malograno nel 2015. Ho voluto fare questa scelta per cambiare e fare un'innovazione. Un anno ho lasciato l'uva appesa, non l'ho voluto a raccogliere perché la padrona è 15 centesimi al chilo. Il malograno è un frutto che si posiziona bene al mercato, a parte che io sono iscritto in una cooperativa e questa cooperativa ha investito a venire a fare questo progetto qui in Sicilia proprio perché noi abbiamo il sole, la terra e tutto quello che è necessita per poter fare il malograno con tutto il suo splendore. E quindi lo esportiamo tramite questa cooperativa al nord. Ho praticamente due varietà. L'acqua che è una varietà che è dolce e si fa l'ultima di settembre. Invece l'altra varietà che è wonderful si fa l'ultima di ottobre. È una varietà agrodolce, come dicevo, viene di pezzatura più grossa rispetto all'acqua che è più piccola. Dal malograno realizziamo un dolce amaro alcolico, poi realizziamo delle marmellate e realizziamo facendo la granizza e le spremute. Dovremmo ritornare all'origine, quella che è la nostra terra, perché tutto quello che si mette a tavola viene dalla terra. Quindi se diamo valore alla terra, ai frutti della terra, ritorniamo veramente alle cose belle della vita. È un prodotto fatto naturale, fatto con amore. Il melograno io l'adoro proprio come frutto. È antiossidante, è antitumorale. E quindi anche a Grisì riscopriamo le tradizioni, la costura, la storia, la vocazione agricola di un territorio. Oro rosso di Sicilia, melograno, curato, accudito da questa famiglia che è riuscita a fare di un sogno un progetto di impresa. Loro insieme ai loro figli rimarranno a Grisì e porteranno in giro per il mondo questi chicchi preziosissimi, belli da vedere, ma gustosi da mangiare. Mangia come parli, mangia sano, mangia siciliano.